Dopo la disfatta di Iesi, il tecnico Ronce aveva chiesto ai suoi una reazione importante ed è stato pienamente accontentato. Con una prestazione coriacea, ma allo stesso tempo di qualità, il Chieti batte 3-1 un buon campo basso e si riporta a soli tre punti dal terzo posto. I lupi molisani vedono arrestare la loro ascesa in classifica, subendo il controsorpasso della San Benedettese al terzo posto. Non è bastato il sossegno di diverse centinaia di tifosi a corsi dal Molise e che si sono purtroppo distinti per una sequenza interminabile di petardi esplosi a inizio gara. Ronci ripropone un 3-4-3 con il rientro di Esposito e con Diop centravanti al posto dell'acciaccato Broso in panchina. Nel campo basso, Autmarinucci, Palermo e Nicolai. In campo, gli ex Vitone e Miani. La partita, sin dalle sue prime battute, si mostra piacevole con due squadre che hanno voglia di superarsi. Il Chieti è arrembante sulle fasce, ma alla fine i lampi decisivi hanno sempre come protagonista l'ex vittorio Esposito che al quarto d'ora tira fuori una funambolica serpentina, inducendo al fallo Scudieri. Parrella di battipaglia decreta il calcio di rigore che lo stesso fantasista piazza all'incrocio. 1-0 e doppia cifra di gol per Esposito. Al dicianno avessimo la risposta del campo basso con Miani che allarga per Todino. Placidi respinge coi pugni. Per il campo basso non è facile sorprendere l'attenta retroguardia teatina. Dal canto suo la squadra di Ronci mette in mostra una buona manovra con Giron quasi attaccante aggiunto sulla sinistra. Al quarantesimo fiondata di Delgrosso per Esposito, il cui diagonale mette in difficoltà Conti. La punizione dello stesso Esposito fa scendere il stipario sul primo tempo. Il secondo si riapre con il Chieti in apparente controllo delle operazioni. Al settimo, anzi, Orlando, buona la sua partita, si districa bene in area di rigore, ma Conti sventa. Contestualmente Bullo si affida a Vitelli, l'uomo che svolta le gare dalla panchina. Ma serve un errore di Placidi per spienare la strada al pari del campo basso. Il tiro di Miani è forte ma parabile. Placidi interviene goffamente e si fa infilare. Uno a uno e dodicesimo gol per Simone Miani. Il gol carica il campo basso, anche se il Chieti non si fa schiacciare. Anzi, reclama un altro rigore per il contatto Dragone Delgrosso al diciottesimo. Vitelli però una spina nel fianco e dà in là a tante minacce. Un suo cross innesca la rovesciata di Todino, alta. Si ripete Vitelli con l'assist per La Penna al ventisettesimo e soprattutto per Todino al ventottesimo che è in corsa non ha la mira giusta e spreca. Nel frattempo Delchietti dentro Broso che al ventinomesimo riceve da Prinari e chiama Conti alla gran parata. Le squadre sono lunghe e le occasioni fioccano sui due fronti. L'equilibrio si spezza definitivamente al trentacinquesimo. Bella azione Delchietti, cross di Orlando, velo di esposito e destro preciso di Broso che fa esplodere la tribuna dell'Angelini e il colpo partita, il quarto sigillo del centravanti che uscirà subito dopo per un problema muscolare. Il suo sostituto, l'Axir, firmerà al quarantaduesimo il gol del definitivo 3-1. L'assist neanche a dirlo di Vittorio Esposito che al quarantaquattresimo si prenderà gli applausi scroscianti dei tifosi nero-verdi. Il Chieti è tornato e con esso ritrovate le chance play-off. Campobasso sconfitto ma non ridimensionato.